Musica E' un nuovo giorno ad Avelok Sofia si risveglia nella stanza della principessa Si alza presto e comincia a prepararsi Oggi dovrà fare un lungo viaggio verso Thealok Che bella giornata E' meglio che mi preparo Se voglio arrivare in tempo alla stazione dei treni Musica Sofia si ritrova in un vagone elegante E parte per Thealok Uh, che bello qui, che lusso Nel frattempo si avvicina un uomo Oh, buongiorno Oh, mi scusi ma Questo posto è riservato ai reali E quindi penso che lei possa essere nel posto sbagliato Mi dispiace Ma come? Principessa Serena ma Non si ricorda Sono Lers Sono il cameriere del re Giulia Di Thealok Oh mamma mia Ho sbagliato Aiuto Serena Lo conosceva Devo entrare nel personaggio al più presto Su Sofia Fingi Penso che ci siamo incontrati l'ultima volta al ballo reale Cinque anni fa Prima che tu andassi all'estero per i studi Oh, eh sì, certo Mi ricordo Era il ballo invernale Giusto? Eh? Ballo invernale? No Era una festa per il re Oh, mi guarda con occhi sospetti Aiuto Ehi, sei davvero tu la principessa? Ma sì, certo che lo sono Sì, dai Adesso Sì, mi ricordo Era per la festa del re Nel palazzo di Thealok Beh, non proprio La festa era nel palazzo estivo Oh, beh, bene Benissimo Aiuto Tuttavia Sono qui Per ordine del re Per assicurarmi Che tu arrivi al sicuro A Thealok Principessa Oh, beh Grazie Lers Mamma mia Ma in che tipo di fasticcio Mi sono messa Finalmente Sofia Arriva a Thealok E Lers L'accompagna Per incontrare il re E la regina Principessa Serena Benvenuta A Thealok Grazie Ok, ora come mi devo rivolgere a lei Vostra altezza reale Eh, che cosa Vostra maestà reale Principessa Si prega di utilizzare il titolo corretto Oh, aiuto Sto facendo una gaffa Una dietro l'altra Fantastico Oh, beh In ogni caso Confido Che il suo viaggio in treno Sia stato Abbastanza piacevole Oh, lo è stato Grazie Oh, principessa Serena Ma dov'è La sua Tutor Pensavo Che arrivassi Con almeno Un assistente Beh, sì In realtà Non stava Molto per la quale Non stava molto bene E la famiglia Reale Di Avelok Ha permesso La loro principessa Di viaggiare Da sola Oh Quanto è moderno Eh, dunque Sì Ok Posso andare Nella stanza Degli ospiti Mi piacerebbe Rinfrescarmi Certamente Moira Sarà La sua Assistente Personale Durante Il tuo soggiorno Con noi Moira Eccomi Re Giulia Piacere di Conoscerti Principessa Sarà Un onore Servirla Per Sofia Ragazzi Non sarà Proprio Una passeggiata Riuscirà A fingere Ancora Lo vedremo Nelle prossime puntate Vi aspetto Ciao 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 Grazie a tutti.